Ciao a tutti e benvenuti su Mondo Promozioni. In questo video vi mostrerò i 5 migliori zaini da trekking. Inoltre vi lascio il link di tutti questi fantastici zaini da trekking qui sotto nella descrizione del video. Iniziamo. Numero 5. Al quinto posto troviamo lo zaino da trekking zeroto. Questo zaino è progettato con grande capacità e tasche multiple, tra cui, una tasca principale di grande capacità, due tasche con cerniera e due tasche laterali in rete per mantenere i tuoi beni organizzati, adatti a varie occasioni come l'alpinismo, l'escursionismo, il campeggio, i viaggi, ecc. Adotta una cerniera a due vie, che è più comoda da usare, per offrirvi la migliore esperienza. Il prezzo è di 34 euro. Numero 4. Al quarto posto troviamo lo zaino da trekking o reunique. Lo zaino da viaggio o reunique è un prodotto professionale per backpackers e altri viaggiatori. La sua capacità e le molteplici funzioni ti offrono una perfetta applicazione all'aperto, questo zaino è molto adatto per l'escursionismo, l'arrampicata, lo sci, i viaggi, il campeggio, l'alpinismo e molte altre attività all'aperto. Il design robusto offre prestazioni affidabili e spazio sufficiente per tutte le tue esigenze, rendendo questo zaino ideale per l'escursionismo e il campeggio. Il prezzo è di 35 euro. Prima di passare al prossimo prodotto, iscriviti al canale per non perdere le migliori offerte. Numero 3. Al terzo posto troviamo lo zaino da trekking Mesoa. Questo zaino ha uno scomparto principale con cerniera, tasche frontali con zip e due tasche laterali. Il compartimento principale fornisce abbastanza spazio. Le tasche anteriori sono ideali per contenere piccoli accessori e per un facile accesso. Due tasche laterali sono ideali per contenere bottiglie d'acqua e ombrelli. Grande design con porta USB, comodo per caricare i tuoi dispositivi elettrici. Cinghie di compressione per legare lo zaino o appendere un sacco a pelo, materassino e altri oggetti di sonno. Gli spallacci in mesh traspirante con abbondante imbottitura in spugna, aiutano ad alleviare lo stress della spalla. La lunghezza degli spallacci è regolabile. La fascia toracica con fibbia a fischietto, ti aiuta a bloccare saldamente lo zaino. Decidi tu come usarlo, le escursioni, le passeggiate, l'arrampicata, il campeggio, il ciclismo o la pesca. Il prezzo è di 46 euro. Numero 2. Al secondo posto troviamo lo zaino da trekking gommie. Scomparto principale con separatore, tasche sui fianchi, tasche anteriori e tasche laterali per mantenere le tue cose separate e organizzate. Potente sistema di sospensione, multicinturino e cinghie per strumenti di sospensione, portachiavi, bastoncini da trekking, tende, sacchi a pelo e altri oggetti. Distribuisce meglio il peso del suo contenuto sul corpo, trasferendo gran parte del peso sui fianchi e sulle gambe. La spalliera e lo spallaccio imbottiti e traspiranti, offrono un comfort ammortizzato, alleviando lo sforzo della spalla e sostenendo il flusso d'aria lungo la schiena e le spalle. Il prezzo è di 54 euro. Numero 1. Al primo posto troviamo lo zaino da trekking d'Oshwin. Questo è un grande zaino multiuso, adatto per l'escursionismo, il campeggio, il trekking, i viaggi, la pesca, ecc. Grande capacità, 70 litri di grande capacità possono contenere tutte le necessità di viaggio. Puoi regolare lo zaino all'altezza che ti fa più comodo. Cerniera e fibbia resistenti possono aumentare la tua soddisfazione con l'esperienza dello zaino. Ha più scomparti, di cui, uno scomparto principale, due tasche superiori, due tasche frontali, una tasca per scarpe, una tasca inferiore, due tasche laterali, due tasche in vita. La copertura antipioggia nella tasca inferiore può mantenere gli oggetti asciutti durante la pioggia battente. L'attrezzatura da campeggio come tenda, tappetino, sacco a pelo può essere posizionata sopra o sotto lo zaino. Il prezzo è di 60 euro. Vi ricordo che trovate tutti i link qui sotto nella descrizione del video. Grazie per la visione. Grazie per la visione. Grazie per la visione.